Ritorniamo ancora con i nostri spettatori abbiamo i terzi classificati di oggi Lorena Strozzi e Giuseppe Bollini ovviamente Beppe poi metterà sul suo blog il commento con la recensione della gara di oggi allora Lori, una terza posizione questa mattina inaspettata? No, il percorso si confà alle mie caratteristiche è un piattone, poche curve per cui diciamo che un po' me l'aspettavo allora già il fatto di questa terminologia si confà mi giunge nuova comunque no, vabbè, scherzosamente è un piattone relativo, Lori vabbè, insomma, comunque hai sofferto qua nella prima parte e nella seconda per quanto riguarda le salite intendo tutte e due ma mi piace l'onestà di tutte e due vabbè, insomma, adesso sarai impegnata nella prossima tappa del Giro del Varesotto, giusto? Esatto perché devi tenere alto la prima posizione dei non competitivi non competitivi brava Lori, ok ti possiamo lasciare libero allora Beppe prima abbiamo sentito da Paolo che insomma al primo chilometro e mezzo c'è stato un po' il gruppetino che si è un attimo defilato dagli inseguitori e poi insomma c'è stato questo allungo di lui e Salah sì, io come tutti gli anni me le dico ogni volta con la scalinata che non so quando mi trovo lì e dico ma perché e niente vabbè, meno peggio del solito perché di solito scollino che sono tipo trentesimo oggi ho intorno alla decima quindicesima posizione sì il distacco che ho preso da Paolo e da Salah sulla scalinata me lo sono portato fino alla fine infatti poi ho recuperato un bel po' di gente e ho chiuso circa 100 metri da Salah niente mi sono preso il solito distacco sulla scalinata me lo sono portato fino alla fine niente da fare questa tappa è indigesta per me beh insomma però è sempre bello che comunque tu partecipi attivamente a questa corsa insomma sì questa è una gara che adesso a parte diciamo l'aspetto legato all'agonismo alla competizione ma a cui tengo particolarmente a esserci perché il contesto e diciamo non solo legato alla corsa ma anche ai progetti della Sacra Famiglia alla beneficenza al fatto che comunque ci sono tanti ragazzi diciamo meno fortunati di noi che partecipano mi fa molto piacere e poter condividere con loro la giornata la fatica è sempre sempre piacevole insomma bene allora anche per te la domanda è d'obbligo domani ovviamente ci sarà un attimino da rifiatare anche rifiatare relativamente perché poi si sa che c'è sempre un allenamento che pur soft che sia però insomma quindi gli appuntamenti dell'immediata settimana che viene i tuoi ma allora vorrei fare se riesco vorrei fare qualche serale settimana scorsa le ho saltate tutte alla grande a piedi pari sta settimana vediamo se riesco a partecipare magari a una tappa del giro o a qualcos'altro non lo so e poi punto fortemente alla gara del piede d'oro di settimana prossima che l'anno scorso avevo vinto e mi piace molto il giro del lago e quindi niente proviamo a far bene quella e se ne viene bene una è già tanta roba bene Beppe noi ti lasciamo libero ci rivediamo ovviamente alle premiazioni e salutiamo tutti grazie a tutti grazie a tutti